Con Daniela Palarie mancano pochi giorni e poi scatterà il nuovo campionato, si inizierà subito sul campo delle campionesse di taglia in carica del Salerno. Obiettivi per questa stagione? È stata allestita comunque una squadra che può ben figurare. Sì, allora partiamo benissimo, diciamo una partita molto difficile, lo sappiamo, quindi noi dobbiamo fare il nostro meglio. Ci siamo preparate moltissimo, quindi siamo fiduciose e speriamo di partire bene. La stagione comunque sono arrivate diverse giocatrici, l'obiettivo è sempre in primis la salvezza, però si vuole ben figurare. Sì, speriamo tanto di, siccome ci sta un nostro ramarico per la stagione scorsa, speriamo di superare il play-out. Sì, soltanto questo, poi vediamo, speriamo di migliorare sempre di più per quest'anno. Che livello di campionato si prospetta? Niente, noi vogliamo fare il nostro meglio, come ho detto, quindi il nostro obiettivo è soltanto questo per il momento. Poi andiamo sempre in alto, se si può fare qualcosa di buono, che ben venga. Quella di sabato poi è una gara anche particolare, a parte perché si gioca a Salerno, ma perché sarà ricordata Oksana Pavlik. Sì, per questa cosa mi dispiace tantissimo, era una mia amica migliore, anzi abbiamo giocato insieme, quindi per me sarà tosto l'incontro, quindi non voglio nemmeno pensarci, veramente. Grazie. Grazie. Grazie.